Musica Benvenute, allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 16 del libro Shea, l'ultimo album dell'anno è valido fino al 27 dicembre 2015 e vedete tantissime promozioni e tante offerte proprio per prepararsi al capodanno vi ricordo che è anche l'ultima occasione per poter acquistare il catalogo di Natale quindi approfittatene e facciamo una cosa tutti insieme e direi di non stare oltre e iniziare a sfogliare il catalogo Ciao, eccoci qui e abbiamo catalogo numero 16 che è valido fino al 27 dicembre 2015 vediamo subito che ci sono tantissime promozioni per il capodanno iniziamo e vediamo che abbiamo in omaggio una trousse più una pochette molto carine con l'acquisto di almeno 25 euro del prodotto di Color Nature che sono questi che sono questi questi che oltretutto il fondotinta, questo pelle perfette che io adoro è in super offerta a 9,95 poi andiamo avanti troviamo anche la terra in offerta a 11,95 poi ci sono anche questi per avere la trousse in omaggio questi anche questo il Cajal in offerta ci sono anche questi prodotti questi i rossetti i rossetti oltretutto in offerta a 4,95 fino agli smalti qui ok e questi sono per i prodotti 25 euro di acquisto e se non maggio è le trousse questi sono edizioni limitate invece questa a destra e non fanno parte invece dell'offerta eccoci qui abbiamo in offerta anche questo qui che è il siero ultra impulpante della linea serum vegetal 14,95 è davvero un grande prezzo per prepararsi a capodanno troviamo in offerta anche eccolo qui ed è il contorno occhi questo è della linea anti-global ed è la crema fondamentale occhi a 16,95 quindi davvero è molto in offerta abbiamo in offerta eccolo qui anche il gommage corpo 4,95 questo che è un super gommage quindi intanto è ottimo per prepararsi a capodanno e poi è un ottimo prodotto da utilizzare sempre eccoci con le promozioni dei set ora abbiamo ad esempio questo set che comprende il gel dolce sfogliante alla vaniglia più il latte corpo vegetato alla vaniglia 9,95 davvero un ottimo prezzo per finire abbiamo le promozioni per i capelli perché abbiamo i set per capelli lisci oppure ricci quello per capelli lisci comprende a 12,95 lo shampoo il balsamo ed il siero perfezionatore della piega mentre quello per i capelli licci abbiamo il shampoo il balsamo ed lo spray per modellare i ricci e questo era tutto l'album eccoci qui abbiamo finito di scaricare l'album di scaricare di consultare l'album e vi ricordo infatti che qui sotto c'è sempre il link per scaricare il catalogo in formato PDF e poi ovviamente il link per contattarmi per le informazioni per gli ordini tranquillamente per tutto sono sempre qui e non mi è restato che ricordarvi che scade il 27 dicembre quindi mi raccomando approfittatene prima delle feste e poi vi auguro buone feste e buoni acquisti naturalmente profumati con il Magico Naturale Mondo di Rocher